Eeeh ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter e oggi sono qui per spaventare Violetta Nooooo Come promesso il scorso episodio di provano spaventarti è arrivata a 50.000 mi piace e quindi oggi ti tocca Mi tocca E siamo qui con un nuovo provano spaventarvi e ragazzi 50.000 mi piace prossimo episodio e suggeriteci Ti facciamo spaventare E suggeritecelo qua sotto magari qualche membro delle Illuminati Crivo o di nuovo io Ma tanto io adesso guardo con te quindi non è che sono immune E ragazzi fatemi sapere anche se volete un prossimo prova a non ridere o prova a non piangere Contate i bei pollicioni in su o scrivetelo qua sotto nei commenti ma adesso siamo pronti e abbiamo il prova a non spaventarti Spaventiamoci Due Ti ricordai Violetta quanto si cagherà sotto qua? Mamma mia ma quando esce il prossimo? Eh boh spero mai Come no spero presto mi manca Ti manca avere i pantaloni sporchi di cacca? Guardiamo i tuoi Infatti adesso ce l'hai marroni Ma che cacchio? Guardatelo Eccoli Vedi Hai messo i marroni apposta così non si nota No non so sporchi per niente Ancora no Ancora per poco Prego mettere le cuffie Non scambiatemi per qualcun altro eh Ora ora ridi Tra poco no Per favore Metti le cuffie e spegni la luce No La luce ci serve a vederci Non possiamo spegnerla Non si vede un cazzo Ok Quando parte? Già fa paura perché non parte Ecco è partito È partito attenzione Dio Eeeh Livello 1 immagini Già mi sono spaventata Ma te che te sei spaventata È il livello 1 Il livello 1 Oddio questo chi è? Mamma mia Questa è per una mummia Che è? Questo è un esperimento russo Andato male Un po' come Ecco è arrivata la musichetta Oddio Già ma che è? Ma è una mamma con ragazzino È belli Proprio ha una foto De famiglia Ma lo vedi come si assomigliano Lui è tutto il papà Ma lui non ha la faccia Veramente Appunto è tutto il papà Che è a destra L'uomo invisibile Che è Ma perché te sei spaventata? Perché te sei Ma perché me la fai pensare Che c'è veramente qualcuno dietro Che poi appare È già apparuto Che non si dice Siccome è petaloso È Tarato della grossa Anche apparuto Ma mi ha introdotto Ma è indiana Che c'ha il pallino rosso Certo Te soffermi sul pallino rosso Che non so dove l'hai visto il rosso Però Te soffermi sul pallino Invece che sui bei denti Guarda che bella dentatura Magari ce l'avessi io Quei denti così Splendenti Vabbè sì Andiamo avanti Cambiamo questa immagine Eh ma adattora ce n'è un'altra Questa sta di Un cilino che diventa Ho fame Però più satanica Ho fame In realtà sembra che l'abbia preso Dricamente nel Ma veramente io non ho notato Questo particolare Io sì Vabbè dai Lo slender ci sta Però la bambina è contenta Dio Dio Questa come fa Pazza questa Ti ingaggeranno nel prossimo film dell'esorcista Ecco Oddio Basta è il livello 2 Scary gift Ora ci saranno le immagini che si muoveranno Quindi Ecco Questa è la commedia Iaristo Gatti Iaristo Fatti Oh ciao Non lo so Si gira Fantastico Iron Man Ok non ti spaventare Iron Man Che fa colazione Ecco non c'è più niente E non c'è più niente Ecco 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 l'esorcista Curaccio Si appisciava addosso No comunque Quella cosa Che è? Ma Ok Oh ma che è? Un batman Sono un batman Oh guarda che c'è Ti sta salutando Bene Che è? Non so Ha paura Livello 3 Chi è oh? Che cacchio Avanti Ma che è? Ma è mi padre che parla Ma mi ha fatto via un colpo Era mi padre o era questo? Io non sento Vabbè hanno bussato Eh tutto avanti Si è aperta la porta Chi è che entra? Sto cazzo Oh mamma mia Livello 4 paura La morte oh Taci tua che musica de merda Si vabbè ma con la musica così è semplice Oddio Mi gravo ma no Vieni Grav ma con sta musica vinci facile però E lei che te lo hai parlato un po' Oddio Tu madre puzza Posso avere un replay sulla mia faccia Perché non ho fatto un jamescare Ma sono rimasto pietrificato Comunque con sta musica è facile Guardate ora faccio vedere i dolcetti Via Comunque c'è una che si dondola Dai Guarda si infatti Guarda come dondolo Guarda La pasta con sta musica Guarda se buttare avanti Mi tiro una Parolaccina Tiro un petaloso Ma chi è questo E' BOOM Oddio no fa impressionante Impressionante Ma che è Lo stilo non ti avvicinava Ecco Ecco E te stamme lontano Ma che c***o Eh mi sa che cosa te l'hai fatta nei pantaloni Ma non mi sono fatto niente Dai Beh Oh Ma chi è Oh chi è Oddio perché urla così Mi fa povero sta ragazzino Mi scatta di urla qua E non lo so C'avrà le sue cose Oh Quando una C'ha le sue cose E' sempre incazzata E' Vi ho detto Quando c'è il ciclo Fa uguale così Anzi Fa pure quando non ce l'ha Quindi figuriamo se Io ho tolto una Cucce Sto avvicinando Oddio Oddio no che è Non appare con ti gesto Eh oh mi empaurisco Che ti devo dire E mi genti Perché muo appare Perché muo sta p***a appare Prendi preparate Ma mi fa più pora te che ti muove Ho agitato So agitato So agitato Non ti sente più niente Beh E' finito Ma come è finito Ecco Ha ricominciato urla Sto piangendo Sto piangendo Eh quando una c'è il ciclo Aspetta va mi mette pausa È finito Eh oh eh oh Quando una c'è il ciclo Si incazza Piangere Magna gelato Quindi vedi Le donne mestruate Fanno questo Comunque alla fine Non è che ha fatto tutta questa cosa Non è finito Mancano ancora dieci secondi Ah ecco Guardate sono tutti in là le cose Grazie per aver visto Bene la stronza Ci deve essere sempre Sotto lo sapevo Questo jumpscare Mi ha fatto Poca paura Mi ha letta fosse un po' di più No più attenta Ma no Ha scontato quanti costumi da bagno A natale Quindi me l'aspettavo Anche perché quello di prima L'ha fatto uguale Spero che il video vi sia piaciuto Diteci qua sotto Se si è spaventato di più Se Dexter o Violetta Mi sono spaventato io Veramente Anche io Fateci sapere se volete anche un gioco horror O Outlast Quando uscirà 60.000 mi piace Horror Insieme a Violetta Quindi spolliciate Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Facebook e Instagram In descrizione Noi ci vediamo prestissimo Un nuovo video Vi mandiamo Un abbraccione Un saluto E ci rischiamo Gente Ciao Ma la vostra attività preferita Non era guardare bambini al parco Andare in chiesa No adesso dovete stuprare Dentro le docce Ma poi con quale viagra